... Bellissimo, davvero fantastico, bello bello. Tanta bella gente oggi, anche perché c'è il capitano. E lo sai che tra poco arriva anche Franco Baresi? Sì, veramente. Sì, veramente. I can't boogie, but I need a certain song. I can't boogie, 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 all night long. Yes sir, I can't boogie, if you stay you can go wrong. I can't boogie, 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 all night long. Io ho visto la terza maglia che vorrei anche comprarla, possibilmente oggi. Se c'è di Tiago Silva la compro, perché io adoro Tiago Silva. Se no, anche un altro giocatore va bene, insomma. Maglietta nuova, già la terza, mi piace molto. Soprattutto le righe messe in orizzontale. Adesso aspetto di vedere la prima. Dio, come la scuola. Dio, come la scuola. Soprattutto le righe messe in orizzontale. Grazie a tutti